Il primo classificato del Yellow Two World Music Festival 2014 Lo dicevamo insieme? Sì signor Capitano, sono i... I canciassiti! Un applauso in Canciassiti, vincitori del Yellow Two World Music Festival! Venite avanti anche con la giuria, anzi fate un passo indietro tutti quanti se no la luce non ci prende. Vengo indietro pure io da questa parte. Premia il sindaco di Boma Marina, Vincenzo Crupi, i canciassiti, vincitori del Yellow Two World Music Festival. Sta da fare una bella video qui. Va bene, la prevenzione è fatta, la foto c'è? Un secondo per la foto, sindaco, giratevi per la foto, sistematevi. Grazie, la festa continua in spiaggia ed il Yellow Two World Music Festival torna l'anno prossimo. Ci vediamo nel 2015, grazie! Fabiana Fusco, grandissima! Grazie a voi! Fabiana Fusco, grandissima!